Siamo sotto il segno dello scorpione. La chiesa ricorda San Leonardo Abate. L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Leonardo. Il nome ha origine germanica e significa forte come un leone. Il numero porta fortuna è il 3, il colore è il rosso e la pietra associata è il rubino. Accadde oggi. Il 6 novembre del 2012 Barack Obama diventa per la seconda volta presidente degli Stati Uniti d'America, sconfiggendo alle elezioni il repubblicano Mitt Romney. Chi è nato oggi? Tra i personaggi famosi nati il 6 novembre ricordiamo l'attore e regista americano Ethan Hawke e il cantautore Mango. La citazione del giorno. Non mi sembra un uomo libero, quello che non ozia di tanto in tanto. Cicerone. Dice il saggio. Mai nulla fa chi troppo pensa. Il bel paese. Nel cuore verde di Siena, nel borgo di Radicofani, si trova uno dei parchi più suggestivi d'Italia, il Bosco Isabella. Il giardino romantico fu creato alla fine dell'Ottocento da Odoardo Lucchini, garibaldino e poi senatore del Regno d'Italia, che chiamò il Parco Isabella in onore di sua moglie. Il parco venne concepito come un tempio massonico all'aperto, un percorso iniziatico dove la disposizione di piante e oggetti è stata studiata in modo da rispettare una simbologia precisa. L'elemento più caratteristico del Bosco Isabella è la piramide in pietra a base triangolare alta 5 metri, situata al centro del giardino. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.